Dal commercio alla pubblica istruzione, così cambia la delega di Carla Di Biase che passa il suo vecchio assessorato al vice sindaco Giuseppe Giampietro. Il rimpasto di giunta chiude la crisi in comune a Chieti con Forza Italia che rientra nella maggioranza, dopo aver ottenuto lo scambio di deleghe tra gli assessori Giampietro e Di Biase. La lite in consiglio, durata quasi tre mesi con i forzisti vicini a Mauro Febbo, si chiude così con un accordo che riappacifica gli animi. Ma se Forza Italia parla di buonsenso, per Fratelli d'Italia questa mediazione sarebbe da considerare come un ricatto. Un boccone amaro mandato giù che, fa sapere Antonio Tavani, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, ha inevitabilmente segnato i rapporti per le prossime elezioni comunali. Dal resto, anche il sindaco Umberto Di Primio al nostro microfono sostiene che con questa vicenda sia stata scritta una brutta pagina della storia del comune di Chieti. Ma intanto è sempre uno strappo, quindi una ferita rimarginata, cuscita spero bene, ma che comunque lascerà un segno. Questo non vuol dire nulla in particolare, ma in politica vuol dire molto. Io credo che sia stata una inutile forzatura. Io non l'avrei mai accettata, così come avevo detto che non l'avrei accettata. Io posso cambiare la delega con l'accordo del partito e della persona, ma non posso farmi dire a chi deve andare quella delega. Nel pomeriggio di ieri c'è stato un accordo tra le persone coinvolte, cioè il mio vice sindaco Gian Pietro e l'assessore Di Biase. Loro hanno convenuto che tra loro poteva farsi questo scambio. A quel punto io non ho avuto nessuna remora a dire va bene, ma in altro modo non avrei mai accettato. Qui non c'è la vittoria di nessuno. C'è la sconfitta della politica che per quattro mesi è stata vittima di un ricatto. La soluzione è stata trovata dai protagonisti, cioè in questo caso dalla Di Biase e da Gian Pietro, che devo ringraziare a nome di tutta la maggioranza e di tutta l'amministrazione. Perché se loro non si fossero messi d'accordo io certamente non sarei tornato indietro e oggi avremmo il commissario. Ma qui non si tratta di mostrare i muscoli. C'è qualcuno che continua a fare politica pensando di ricattare e nascondersi dietro agli altri e di mostrare i muscoli quando è circondato da persone. Abbiamo scritto una brutta pagina della politica cittadina. Adesso spero che con la forza che ci viene data dai numeri si possa recuperare. Lo strappo c'è stato e innanzitutto va sanato quello umano che credo sia il più profondo. Ma ritengo che si possa con la forza dei numeri adesso recuperare il tempo perso e dare alla città finalmente una prospettiva che è quella di vedere i cantieri partire e soprattutto la forza di un'amministrazione che può contare sui numeri per ottenere i risultati.